Buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Oggi con l'associazione salute attiva ONLUS abbiamo ospite India Simi e parleremo con lei di quella parte del nostro progetto che è l'accompagnamento alla nascita e ci racconterà il suo punto di vista, quello che lei promuove con i suoi strumenti, con le sue conoscenze. India che conosco personalmente, è laureata terapista della riabilitazione, specializzata in rieducazione posturale globale con il metodo Roussard è abilitata alla professione di coach, tiene incontri di yoga, di ginnastica, di meditazione, è cantante e musicista quindi un personaggio veramente poliedrico. Quindi ben arrivata India, grazie di essere qui con noi. Grazie mille. Allora, io inizierei questa chiacchierata con te sull'accompagnamento alla nascita leggendo ciò che tu hai scritto sul tuo sito indiasigni.it proprio nella parte relativa alla gravidanza e quello che è stato scritto, quello che c'è scritto è io considero la gravidanza come la massima manifestazione del potere femminile lo stesso potere dell'uragano mentre si scaglia sulla superficie lo stesso potere dell'oceano in tempesta, della montagna che accoglie il ghiacciaio millenario wow, il potere femminile proprio molto molto, come dire, nel suo ruolo forse di massima espressione nel suo ruolo unico veramente ecco India, che cos'è per te la gravidanza? è la creazione è l'incipit di tutto quindi ha bisogno di uno scenario altrettanto grandioso particolare e proprio a su misura fatto ad hoc per questo momento in cui la donna poi non sarà non sarà mai uguale a se stessa in nessun altro periodo della sua vita è una trasformazione interna che io ho vissuto in prima persona e che comunque parlando e confrontandomi anche con altre donne con altre mamme è un percorso di iniziazione è una trasformazione dopo la quale effettivamente la donna non è più uguale a prima quindi non soltanto è particolare il momento, il periodo in cui si vive la gravidanza e il postpartum ma è particolare anche quello che sarà la vita dopo la nascita la donna non sarà la stessa e è un po' ecco sì, un percorso di iniziazione direi da tutti gli effetti fatto di cose tangibili di cose materiali di cose pratiche da risolvere gestioni da 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 come dire mettere da fare una lista di tutte le cose da gestire ma anche fatto di di cambiamenti profondi importanti di nuove priorità e di emozioni e sensazioni nuove che poi si radicheranno si radicheranno sempre di più all'interno della 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 figura femminile che appunto è diventata madre bene perfetto e con le con le strumenti con le conoscenze che hai tu a disposizione in che modo dal tuo punto di vista puoi accompagnare quindi la donna alla nascita del del bimbo o della bimba quindi del figlio o della figlia quindi con le tue peculiarità con le tue caratteristiche come la puoi eventualmente sostenere e seguire dal punto di vista più appunto fisico e organico la la rieducazione posturale globale mi ha dato i primi strumenti per poter aiutare le future mamme quindi le gestanti a gestire non soltanto il periodo della gravidanza ma anche il postpartum e dare qualche indicazione sulla diciamo la gestione del travaglio e le alcune posizioni da da assumere che possono essere più agevolanti per quanto riguarda la spinta l'uscita e quindi un buon esito del del parto quindi della dell'uscita del bebè e quindi quello in primis poi si è un po' arricchito anche di un lavoro sulla respirazione che è andato di pari passo anche con la valutazione di altri diciamo di altri percorsi formativi che ho fatto in cui sicuramente il più quello che spicca di più è la rieducazione del pavimento pelvico che sto tuttora praticando come percorso formativo perché è anche abbastanza impegnativo un po' lungo poi in questo periodo tutto si sta un po' dilatando quindi diventa ancora più lungo però è veramente un mare magnum il pavimento pelvico e tutte le disfunzioni legate al pavimento pelvico sono effettivamente una cosa che ambisco ad approfondire e quindi sto cercando appunto di percorrere questa strada una volta ho detto il mio mestiere credo che poi in qualche modo possa essere anche ricondotto anche al tuo o a quello di altri operatori è quello di aprire una porta di una stanza ancora più grande per quando hai fatto una formazione ti rendi conto che in realtà c'è ancora di più da sapere quindi non finisce mai ecco e quindi la base di partenza è che non finisce mai e poi ecco si possono integrare varie informazioni vari metodi vari punti di vista e questi sono quelli che utilizzo io poi effettivamente diciamo un po' l'esperienza che una donna può trasmettere a un'altra donna al di là della mia professione è si perde un po' negli aspetti della dula per esempio cioè della donna che assiste un'altra donna durante appunto la gravidanza il parto il post partum in funzione delle esperienze che sa di quello che istintivamente e qui si ritorna al discorso del potere femminile cioè che è una cosa innata dentro di noi perché per fortuna ci siamo nate e quindi nessuno ce lo potrà neanche togliere e appunto quell'esperienza che nasce dalla fiamma animica dentro di noi e che ci permette poi di dialogare di comunicare con un'altra donna in un linguaggio che è fatto di non verbale e la dula in questo senso raccoglie informazioni e ne fa tesoro ma soprattutto accoglie e acudisce la la donna e in qualche modo io penso che una una figura professionale una qualsiasi persona che si affacci al sostenere aiutare una donna in gravidanza in qualche modo debba esserlo un po' ci si debba un po' inserire anche in questo aspetto e quindi in qualche modo anch'io un pochettino diciamo mi sento di sostenere poi le donne che si rivolgono a me e che ovviamente sono in questo in questo ambito in questo momento così bello della loro vita di sostenerle anche dal punto di vista umano cercando di soddisfare le loro necessità e e anche poi mettendo in pratica un vero un vero e proprio sostegno per quanto riguarda diciamo un sostegno antico ecco un sostegno che sto cercando nella mia esperienza di questa vita di riportare a memoria prima in primis a memoria mia e poi cercare di condividerlo con le persone che con le donne che incontro quello che infatti una degli aspetti che mi aveva maggiormente e piacevolmente colpito di quello che mi avevi di cui mi avevi parlato era proprio questa trasmissione tra donne quindi di un'antica saggezza che può essere trasmessa di donna in donna e che a volte forse nella nostra società moderna forse viene un pochettino perso questo potere della trasmissione del racconto e dell'esperienza quindi quasi un cerchio di donne che possa in qualche modo sostenere colei o coloro che si affacciano a questa nuova esperienza quindi ecco mi sembra di capire che con il tuo lavoro forse incentivi e aiuti e promuovi anche questo tipo di rapporto e di dialogo con le donne che si rivolgono a te è fondamentale questo noi stiamo gradualmente non è che tutti i giorni vado a vedere la curva di progressione però stiamo gradualmente perdendo queste capacità innate di non soltanto di far nascere che quello è un po' il frutto del del lavoro che c'è prima cioè del lavoro di consapevolezza di recupero di queste informazioni ma appunto abbiamo perso il contatto con la nostra natura e la natura femminile è differente dalla natura maschile per cui cioè è proprio appunto la creazione la nascita di tutto e questo è un onere e un onore è un onere perché è un impegno che va portato avanti e va portato avanti non soltanto per noi stesse cioè io magari che voglio essere madre oppure io che addirittura non voglio essere madre per esempio che ci sono anche donne che magari non hanno interessi a esserlo però è importante che anche queste queste ultime che magari non vogliono portare avanti che non vogliono avere figli che portino invece avanti il testimone come in una staffetta dove di sorellanza esatto dove tutte le le donne poi si si aiutino perché se se io porto il testimone per un pezzetto della mia staffetta che non è nell'inizio o nella fine non vuol dire che la mia la mia funzione sia meno importante io anzi posso posso trasmettere questo questa informazione forse conoscendone proprio profondamente le i principi e le motivazioni forse la posso portare con più forza ancora perché poi ci ritroviamo le mamme si ritrovano spesso anche avere fatica fisicamente e psicologicamente il mestiere di madre non è proprio facile ecco quindi ci vuole ci vuole un bel fegato ecco per riuscire a mantenere questa conoscenza intuitiva questa conoscenza ancestrale questa conoscenza interiore riuscire a tenerla a coltivarla e poi anche a tramandarla è una cosa molto però è basilare importante io quando incontro qualche appunto mamma che nel mio studio una delle prime cose che dico è che io non ti devo insegnare niente la cosa che il motivo per cui io e te siamo qua è perché io devo ritirare fuori da te delle cose che tu hai dimenticato questo è il concetto importante quindi io è un po' come se non so se c'era un cartone animato mi sembra fosse Wall E mi sembra dove c'erano tutti questi umani sovrappeso che non riuscivano a praticamente a camminare ecco è un po' come se permettimi questa diciamo similitudine forse un po' grottesca però in qualche modo mi è venuta questa quindi ti prendi questa è un po' come se è un po' come se ecco fossi un po' cercassi un po' di rimanendo anche in tema di riabilitazione di far scendere dalla macchinetta telecomandata questi esseri umani in sovrappeso e cercassi di insegnarli a camminare ma cose che sanno già fare però se le devono ricordare è un po' la stessa cosa ecco la donna anzi ti chiederei questo quanto è secondo te importante proprio in vista della nascita una buona gravidanza cioè il momento del parto quanto può essere più o meno agevole più o meno semplice più o meno fluido a seconda di come è stata mandata avanti la gravidanza ed eventualmente quindi in che modo appunto tu puoi aiutare una delle tecniche che mi ricordo avevamo parlato proprio l'importanza anche del del respiro quindi in che modo eventualmente con un respiro con l'insegnamento della respirazione tu puoi anche aiutare in questo percorso è una risposta un po' complessa questa perché il respiro sicuramente può aiutare ma aiuta alla madre non aiuta alla nascita cioè tutto ciò che è importante nel momento della nascita è che la donna stia bene che sia tranquilla che si senta al sicuro se non si sente al sicuro può esserci tutta la respirazione possono esserci tutte le conoscenze di questo mondo ma la donna non riuscirà a partorire da sola e si troverà quindi o a rimandare il momento come può capitare che capita delle volte anche nel regno animale oppure a dover aver bisogno nel mondo dell'essere umano appunto dell'intervento esterno quindi o del medico dell'ostetrica o delle persone che appunto la stanno sostenendo e assistendo in quel momento quindi il percorso ecco mi è capitato anche una volta di avere una mamma che si è presentata tipo venti giorni prima di partorire dicendo che voleva capire come partorire è un po' difficile ecco è un po' come non so andare a Sanremo e sentire la canzone il giorno prima ecco è un po' la stessa cosa e anche a meno che la persona stessa non abbia già una 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 certa cioè abbia già un certo ehm sì ecco comunque abbia già alcune cose importanti ben ben salde ben radicate dentro di sé e per cui opposto la respirazione ovviamente è una tecnica fisica quindi a meno che uno non abbia proprio uno schema corporeo completamente a rovescio si apprende e si può apprendere anche nel giro di eh di qualche giorno ma è tutto il resto che è importante perché è una cosa fondamentale che mh viene viene tenuta un po' eh in secondo piano e non non detta in questo nostro periodo storico è che eh il bambino non si fa pensando o guardando o ascoltando eh con i sensi attivi eh o con la mente pensante che è eh che è attiva il bambino eh riesce a uscire quindi si può partorire proprio spengendo il cervello il cervello pensante il cervello attivo il cervello che deve decodificare deve essere ehm una totale padronanza del cervello arcaico altrimenti ci può essere cioè sono tutte interferenze si parte poi dal presupposto che dopo tutte le interferenze che ci sono la donna può comunque saperle gestire perché oggi comunque la donna è anche multitasking quindi si vede che bene o male nelle nelle strutture comunque eh con tutto con tutte le informazioni e le afferenze che ha che arrivano al sistema nervoso centrale alla donna che partorisce in quel momento comunque si vede che le donne riescono comunque a partorire però ai miei si vede anche che stanno iniziando drasticamente ad aumentare tutti gli interventi nel momento della della fase non soltanto dilatativa ma anche della fase espulsiva e questo ci fa un po' capire che in realtà poi a un certo punto tutte queste informazioni tutte queste afferenze possono iniziare a dare un po' fastidio al momento magico al momento alla bolla ormonale di ossitocina che si deve creare senza la quale non si riesce a partorire non c'è non c'è modo se non c'è l'ossitocina bisogna intervenire in qualche altro modo ok prima hai accennato all'importanza dell'attivazione del cervello arcaico se magari e quindi anche a un invece a un abbassamento di quelle che sono le cortecce quindi di livello attentivo esatto quindi ecco magari se per chi magari non lo conosce se ci puoi dare qualche microinformazione su quello che può essere appunto il cervello arcaico e cosa intendi per attivare il cervello arcaico e invece lasciare un pochettino più da parte la neocortex neocortex allora ma intanto brevemente posso dire che l'encefalo questa cosetta che abbiamo dentro al nostro cranio è diviso grossonalmente diciamo così è diviso in tre sezioni in tre parti c'è il cervello arcaico che è nato per primo ed è un diciamo si trova più al centro ed è quello che gestisce per esempio le funzioni di attacco fuga di risposta agli eventuali stimoli dell'esterno quelli più proprio più animaleschi immaginiamoci un animale nella foresta o nella savana immaginatevi un animale ancora che vive in libertà e reagisce a questi stimoli reagisce quindi alla ricerca della fame al partorire quindi a fare i cuccioli alla sete al sonno alle funzioni fisiologiche all'attacco alla fuga a seconda se in quel momento si trova in pericolo oppure se deve attaccare per qualche motivo e quindi magari procacciarsi il cibo e questo è un po' il cervello arcaico poi abbiamo il cervello limbico che è destinato alle emozioni quindi gestisce un po' le emozioni e quindi è un po' la sede il nostro scrigno emozionale e poi intorno alla fine perché si è creata poi nel corso delle migliaia di anni si è creata questa struttura più esterna che si chiama appunto neocorteccia e è neo perché appunto è nuova anche se ce l'abbiamo già da un po' ma a livello evolutivo si è costituita più avanti nella nostra evoluzione è il cervello pensante le intuizioni i progetti vedere il futuro riuscire quindi a carpire e a concepire le idee astratte che ovviamente un animale non saprebbe immaginatevi un animale che pensa al suo progetto della sua nuova tana cioè non si è mai sentito ora sinceramente magari potrà succedere perché no però ecco non so se potrà succedere in questa mia vita ma potresti vederlo non lo so comunque bando alle sciocchezze e quindi questo è un po' ecco la neocortex in questo nel contesto della nascita la neocortex non può esserci perché è proprio l'attività una delle attività principali e prioritarie del 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 cervello arcaico quindi ecco perché altrimenti tutte le informazioni rispondere se c'è qualcuno che chiede una cosa come stai oppure cambiare posizione vieni ti guardo la dilatazione aspetta sentiamo il battito del cuore sono tutte distrazioni che riportano la donna da un interno una specie di guscio da un qualcosa dove dove lei stessa si sta proprio crogiolando dentro le sue sensazioni sta respirando sta affrontando anche dolori diciamo mai provati prima e che mai riproverà e tutte queste cose arriva qualcuno e parla una luce forte sono tutte cose che tendono a irrigidire a portare fuori e quindi la dilatazione la respirazione la concentrazione in una specie di 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 mondo ipnotico ecco viene viene un attimo rubata e questo se viene ripetuto in persone che magari in donne anche che magari riescono anche a hanno anche il senso del dovere un po' sviluppato quindi non vogliono essere magari maleducate oppure rischiano ecco di portare di vedersi portare via dei momenti di relax che poi relax è una parola impropria ma comunque di momenti di connessione con questo con questo processo perché è un processo a tutti gli effetti e che poi possono portare a delle piccole intoppi a delle piccole conseguenze e comunque disturbare quindi in una situazione in un momento del genere disturbare è proprio la cosa che non dovrebbe essere fatta io ho partorito in casa e in quel momento non potevo assolutamente avere una luce c'era l'ostetrica con me insieme con mio marito provavano a parlare sottovoce non riuscivo neanche a capire che cosa dicevano e io se mi sarei alzata con un coltello li avrei ammazzati proprio capito da quanto era importante per me stare in questo momento di concentrazione ecco che poi non è appunto mentale ma è una concentrazione più fisica più arcaica però questo è in che modo puoi con le tue conoscenze insegnare trasmettere questa capacità di ascolto di entrare in ascolto di sé e quindi di ricordarsi di sé alla donna partiamo comunque dal presupposto che la neocortex è importante perché ci aiuta a immagazzinare informazioni e quindi attraverso l'informazione quindi quindi si parla di posizioni faccio vedere magari anche dei disegni diciamo dei video in cui faccio vedere come è costituito l'utero l'organo genitale femminile all'interno dell'addome e le varie posizioni che facilitano l'uscita per esempio del bambino e altre che invece la ostacolano ovviamente tutte le posizioni in cui l'utero il canale del parto hanno un angolo un'angolatura più distesa quindi un angolo maggiore facilitano la discesa e quindi l'apertura del canale del parto le posizioni in cui c'è una maggiore spinta addominale quindi una maggiore forza quindi di torchio a livello di torchio addominale sono più facilitanti rispetto ad altre che sono più diciamo di ostacolo più che altro e tant'è per esempio che nelle posizioni in cui si va a valutare non soltanto la dilatazione ma magari anche l'ascolto del punto del cuore del battito del bambino sono in semi decubito sdraiato sulla schiena e insomma sono cose che vanno mantenute il meno possibile per esempio poi bisogna subito lasciare che la donna in linea di massima scelga la sua posizione non c'è una posizione per tutte c'è quella posizione la meglio per tutte però ecco bene o male ci giriamo un po' intorno durante invece la gravidanza insegno diciamo vari tipi di respirazioni vari tipi di esercizi respiratori che anche questi aiutano a aumentare il torchio addominale ma soprattutto impegnano la donna nell'entrare in un meccanismo ripetitivo all'infinito e quindi iniziano a collegare la donna con il proprio cervello arcaico e a spengere la neocortex si lavora durante la gravidanza con i dolori con i fastidi con i cambiamenti e quindi cerchiamo sempre di integrarli all'interno della quotidianità della gestante attraverso posture autoposture allungamenti stretching mobilizzazioni dolci questo è un po' quello che si fa e poi penso che ultimo ma non per questo meno importante ci sia proprio questo che stiamo facendo un po' io e te adesso cioè la trasmissione attraverso i corgi attraverso le due donne che si parlano se la donna continua a come dire a seguire il percorso con me è perché in qualche modo ottiene qualcosa di cui ha bisogno per sentirsi più sicura e questo è quello che diciamo è la parte di di dula tra virgolette che in qualche modo tutte le donne che hanno davanti una gestante anche se non lo vogliono si trovano a farlo anche se soprattutto si hanno già partorito stai attenta perché quando succede così fanno un po' così e quella è un po' la dula che è in noi che esce fuori senti in questo percorso di accompagnamento siccome si parla di nascita è vero che la parte prettamente fisica è portata avanti dalla donna tendenzialmente c'è comunque un partner o una partner quindi quanto è presente nella tua esperienza in questo processo di accompagnamento quindi magari anche proprio venendo da te e seguendo questo percorso anche il partner o la partner non ho avuto una grande esperienza così importante al riguardo nel senso che è ancora visto come una cosa molto della donna e questo è giusto che sia anche così perché effettivamente poi lei fa il grosso a tutti gli effetti e anche la relazione terapeuta e gestante deve essere una cosa che viene vissuta anche in modo personale cioè un po' intimo direi però è anche vero che in periodi storici come questi la figura dell'uomo deve essere rivalutata in modo proprio prepotente perché c'è bisogno dell'assistenza dell'aiuto e del sostegno dell'uomo è fondamentale non è soltanto fondamentale nel momento della nascita ma è importante abbastanza prima poi prima dipende in funzione diciamo di com'è la gravidanza se è la gravidanza tranquilla bene o male siamo tutti felici ecco c'è qualche fastidio ovviamente l'uomo si spera che sia un po' gentile nel fare un po' più cose però il problema è soprattutto dopo ho incontrato tante 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 neomamme che dopo hanno avuto molta hanno fatto molta fatica nel riuscire a gestire al meglio un figlio piccolo che è comunque una sanguisuga e gestire se stesse che comunque sono sempre donne e hanno anche appunto bisogno della loro energia per gestire se stesse e questo figlio e poi magari ritornare anche a una parvenza di vita nei primi mesi insomma qualcosa bisogna che rientri e lì l'aiuto il sostegno del partner è fondamentale veramente fondamentale se fossimo stati a qualche secolo fa la sorellanza sarebbe stata l'unica l'uomo poteva anche andare a giocare a carte poteva anche andare al bar poteva fare qualsiasi cosa ma è perché la sorellanza in qualche modo creava questo gruppo di donne che erano vicine di casa erano amiche che si trovavano ognuno aveva il suo bambino oppure se anche non ce l'avevano allora oggi tocca a me quindi io magari faccio mi riposo tieni il bambino oppure ti do una mano ti ho preparato la cena ti ho preparato il pranzo ecco queste sono le cose che fanno felice una neomamma oppure la notte anche la notte drammatica che se la donna non può dormire la notte rischia veramente di impazzire almeno questo è stato un po' anche la mia esperienza e ora che non c'è più questa sorellanza perché sono magari le amiche ci sono ma sono distanti perché magari sono al lavoro perché magari non c'è più questa propria cultura di darsi una mano la donna rimane da sola e si deve smazzare se stessa il bimbo il suo riposo la sua salute mentale tutto insieme contemporaneamente e magari puoi rientrare pure al lavoro sono situazioni estremamente critiche parlare di depressione post partum direi beh certo per forza vorrei anche vedere potremmo parlare meglio depressione post partum ma si potrebbe parlare anche di suicidio post partum se non fosse che siamo così forti ecco quindi è importante è molto importante che l'uomo ci sia e si renda conto che è un periodo a tempo in cui lui ha bisogno anche lui di essere di tirar fuori delle risorse extra potrebbe essere così per lanciare un seme no di stimolare magari anche opportunità di incontro proprio affinché anche l'uomo venga messo forse più anche a conoscenza di ciò che gli sarà richiesto di di poter fare quindi l'importanza che avrà all'interno di questo processo quindi anche nel momento del parto nel senso di presenza quindi di elemento fondamentale per creare quello stato di sicurezza no che dicevi prima dove la donna si può sentire sicura tranquilla quindi l'importanza della presenza dell'uomo nel momento del parto cosa che purtroppo nel periodo che già che stiamo vivendo è stato estromesso dalle sale parto per vari vari motivi però ecco proprio di rendere sempre più partecipe potrebbe essere anche un uno stimolo per creare occasioni in cui venga trasmesso anche su questo fronte di importanza certo sarebbe sicuramente auspicabile considera il fatto che l'uomo tendenzialmente non ha ovviamente la produzione di ossitocina della donna soprattutto in quel momento cioè nel momento del travaglio della dilatazione del parto però scusami puoi dopo specificare anche che magari non tutti sanno che cos'è l'ossitocina quindi la sostanza dell'ossitocina qual è la sua importanza l'ossitocina è l'ormone dell'amore praticamente dove c'è amore a bracci dove c'è latte materno e dove c'è un parto e ovviamente anche tutta la fase di preparazione della gravidanza i livelli di ossitocina aumentano questi permettono l'ammorbidimento dei tessuti che diventano più elastici e più lassi anche più morbidi ed è quello che poi permette il picco di ossitocina che è appunto questo ormone che producono le donne produciamo tutti in particolare la donna in questo frangente è quello che poi permette la montata lattea per esempio quindi quando non c'è questo tornando al discorso di prima faccio questa parentesi magari va tutto bene in un parto medicalizzato va tutto bene però la donna non riesce ad avere la montata lattea quindi c'è poco latte per esempio questo è un altro degli effetti collaterali di una corteccia sempre troppo presente non riesce quindi la femmina perché di questo si parla in quel momento è stata talmente impegnata in diverse attività che a livello biologico il suo organismo non riesce a creare questo picco di ossitocina e quindi per esempio ha una scarsa quantità di latte e quindi il bambino farà fatica a richiamarlo i giorni dopo oppure può darsi anche che poi non ne usufruisca così come dovrebbe detto questo quindi l'ossitocina è proprio per esempio anche l'ormone dell'orgasmo quindi dell'atto sessuale ma degli abbracci delle coccole del relax è proprio l'ormone della distensione degli animi ecco quindi è fondamentale che ci sia questo picco che sia sempre molto alto e ovviamente che poi abbia i suoi picchi nei momenti appunto come ho detto prima molto topici del parto mentre invece si stava dicendo non me lo ricordo più della presenza quindi dell'uomo ecco dicevo l'uomo l'uomo è importante che ci sia e sebbene appunto non abbia la produzione di ossitocina come ha la donna però la respira come la respirano tutte le persone che sono intorno a una mamma che sta per partorire detto questo quello lo renderà più accondiscendente più gentile più sottomesso anche perché fa anche questo l'ossitocina però ovviamente l'uomo è neocortex pensante proprio uomo sapiens proprio non a caso ho detto uomo non donna sapiens anche questa è una sciocchezza vabbè e quindi lui va istruito lui va precedentemente va istruito cioè che vuol dire vuol dire che gli va fatto un po' presente lo scenario quello che potrà succedere se la donna cambia umore se diventa isterica se diventa se si trasforma in una specie di felino rabbioso non vuole magari condividere con nessuno neanche se ha delle brutte maniere se invece piange se invece ha le occhiaie sotto che gli arrivano al naso ecco cioè deve essere preparato a un extra un bel extra per qualche mese io mi ricordo mio marito che che è stato bravissimo è stato veramente il più bravo anche perché ne ho fatto uno però insomma va bene è stato bravissimo e lui figlio non un marito è stato un figlio sì sì ho avuto anche un marito per ora però ho avuto un figlio e lui le notti dopo che abbiamo avuto appunto mio figlio e cioè questo bimbo che era un po' ovviamente capita un po' piangeva di faceva male la pancia e dopo un po' io vedevo che lui non non interagiva cioè lui la notte dormiva e io gli dissi guarda mi pazienza ma ho bisogno che tu mi aiuti la notte perché io il giorno posso dormire però vorrei anche avere un po' una vita magari un'oretta fare qualcosa ti giuro che non ho il tempo di farlo e la notte poi io dormo riposata dormo tanto bene e se se riuscissi almeno a svegliarmi soltanto per la popata che erano già voglio dire almeno due o tre volte e poi non più io guarda quindi è iniziata da lì anche se un po' a fatica poi dopo ci siamo organizzati bene è iniziata una un sodalizio un matrimonio anche da questo punto di vista dove io gli davo il latte e poi se lui aveva qualcosa che gli dava fastidio lui provava provava a calmarlo a tranquillizzarlo lo prendeva lo calmava perché ovviamente se ritornava da me si riattaccava nuovamente e magari non tutte le mamme sono riescono a dormire mentre allattano io per esempio non ci riuscivo e quindi cioè o dormivo o allattavo e questa anche se lui poverino la mattina andava al lavoro è l'extra che io gli ho chiesto e questo con altre due o tre cose per carità lui mi ricordo che usciva la domenica sera diceva meno male che domani è lunedì vada a lavorare capisci però per qualche mese è stata così per tutti insomma ecco ok benissimo beh direi che insomma qualche spunto lo abbiamo dato e poi eventualmente magari possiamo anche decidere di affrontare maggiormente qualche aspetto di dell'accompagnamento alla nascita magari lo possiamo anche viscerare in maniera più con più dettagli ecco ma che no può essere sapere e far arrivare il più possibile a chi ci ascolterà l'importanza veramente della sacralità del momento sia della gravidanza il momento della nascita il momento del dopo nascita e in questo potere femminile che forse anche le donne abbiamo bisogno veramente di andare a recuperare quindi insomma di impegnarci anche noi stesse forse magari alcune donne non sanno neanche che ci sono altre che possono sostenerle che possono anche accompagnarle al di là di quello che può essere l'ambiente prettamente medico sanitario ospedaliere quindi è importante un'integrazione di varie conoscenze di varie professioni che possono sostenere e accompagnare questo momento ti ringrazio tantissimo India per la tua disponibilità e ringrazio tutti quanti gli ascoltatori e le ascoltatrici e ci sentiamo per la prossima intervista grazie Sara grazie 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 mille grazie 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 grazie